Sui social la questura di Caltanissetta annuncia il nuovo responsabile la sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Caltanissetta. Si tratta del sostituto commissario Massimo Carrubba che dal 1 gennaio prende il posto del suo predecessore Calogero Butera. Quest'ultimo infatti adesso in quescenza ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022. La Polizia Postale si occupa di prevenzione e contrasto dei reati che riguardano il mondo della rete, sia i reati contro la persona che contro il patrimonio, in particolare la lotta alla pedopornografia. La sezione nissena ha anche effettuato degli incontri con gli studenti e studentesse del territorio per informarli sui rischi della rete, sensibilizzare i giovani per un utilizzo consapevole di quest'ultima e parlare dunque di contrasto al cyberbullismo ma anche attenzione al mondo dei social. Nel ringraziare il sostituto commissario coordinatore Calogero Butera per il servizio svolto in questi anni alla Polizia Postale e prima ancora la squadra mobile della questura nissena si legge nel post, facciamo un grande invoca al lupo al nuovo responsabile della sezione.